Sindaco Romandini, i casi positivi accertati qui al comune di Sant'Egilia-La Vibrata continuano a salire anche con riferimento alle strutture scolastiche, tant'è che lei ieri ha ritenuto in ordine con un'ordinanza a chiudere quattro classi. Sì, è vero, la curva è in salita ancora, insomma sono numeri non come qualche giorno fa, siamo a circa 40 ad oggi che sono positivi, che ancora sono in scadenza perché non sono ancora trascorsi i giorni. Per quanto riguarda la scuola abbiamo più volte comunque segnalato anche all'ASL, però non arrivano comunicazioni su segnalazione della preside in quattro classi, c'era un positivo presente, insegnante o bambino, e quindi su segnalazione della preside di concerto abbiamo deciso, poi ho deciso io comunque di fare la chiusura anche perché i giornitori erano informati e giustamente hanno preferito comunque lasciare a casa i figlioli. Quindi l'ordinanza parte da questa mattina, è partita ieri sera, saranno chiuse le quattro classi fino a nuova ordinanza di riapertura, comeppure stiamo attendendo il risultato di tamponi che sono stati fatti dalla ASL martedì scorso per riaprire la sinonidosa e ci sono le condizioni. Quindi allo stato dei fatti lei non ritiene che si possa andare verso ulteriori chiusure? No, per adesso no, però abbiamo detto, abbiamo scelto questa strada qui, dovesse arrivare qui un istituto omnicomprensivo, ci sono 1350 ragazzi, quindi dovesse succedere in qualche altra classe quando la segnalazione ci viene fatta, io provvedo la chiusura, anche se non c'è il tampone ufficiale eseguito comunque dalla ASL termo. Come hanno reagito le attività commerciali qui al comune di Sant'Egidio in merito alle misure restrittive imposte dal DPCM? Qualche esercente naturalmente si è lamentato, ma purtroppo non è una scelta nostra, noi sindaci possiamo adottare misure più restrittive di quello che dice il governo. La norma è questa, quindi è stato comunicato, c'è un OPCM che parla di questo, quindi noi dobbiamo rispettarlo. C'è qualcuno comunque che invece dice sì è giusto così, aspettiamo, speriamo di uscirne presto. Grazie a tutti.